Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo filmato Il mio aspetto oggi è molto molto semplice ragazzi Perché stamattina non so per quale arcano mistero Mi fa male l'occhio sinistro No per voi forse il destro Vabbè comunque mi fa male questo occhio qui Forse mi starà venendo l'orzaiolo come si dice Quindi ho evitato di truccare gli occhi Anche la base la lascio un po' libera perché ogni tanto ci vuole In compenso ho puntato un pochino sulle labbra Quindi diciamo oggi questo è il mio look molto semplice Quindi voi non ci fate caso Non so quante volte ho già detto quindi però ok In compenso ho messo questa camicetta Perché adesso con l'arrivo della primavera Incominciamo a vestirci un po' più colorati Come possiamo dire Vabbè penso comunque mi avete capito Vando alle ciance Oggi nuovissimo filmato E finalmente vi faccio scoprire tutto ciò Che ho ricevuto al Cosmoprof Non so quando vi pubblicherò questo video Comunque in questa settimana Vi ho mandato online il vlog E vi stramega ringrazio Perché vi sta piacendo veramente tantissimo E sono stata e sono moltissimo contenta Quando riesco a portarvi con me Le nuove esperienze A proporvele sul mio canale Sono veramente contentissima E vi ringrazio di tutto quanto Grazie grazie E quindi ho detto Siccome mi hanno invaso di cose Non che mi dispiace Attenzione Ho detto perché non fare un video apposito Dove mostro tutto quanto Anche perché nel vlog vi avevo detto Che vi avrei fatto vedere tutto il bottino E adesso un momento Che prendo la busta Che probabilmente neanche c'entrerà Nell'inquarratura Però proviamo in tutti i modi Allora pesa tipo quattro quintali Cioè guardate quante Mamma mia non so come farvela vedere Ve l'ho già Comunque già Già vista così capite che è gigantesca Guardate quanto è grossa Cioè non so come farvela vedere Ed è stra mega A parte anche nel vlog ve l'avevo fatta vedere Ed è stra mega Non so come mettermi Aiuto Ed è stra mega piena di cose Mamma mia Mi hanno riempito di bottini Cosmeticosi Skincare Che non è che mi dispiace Attenzione Mamma mia Pesa un casino E adesso come faccio però Per farvi vedere tutto quanto Perché veramente tantissime cose Allora premessa Non ho fatto nessun acquisto Al Cosmoprof Qualcuno penserà Ammazza sei andata al Cosmoprof Ti sei fatta quattro ore di macchina Da Roma a Bologna Quattrocento Passachilometri E non ti sei comprata niente Attenzione Non mi sono comprata nulla Perché allora In realtà era tutto Stupendo Meraviglioso Il budget ci stava Perché avevo un budget Appresso Però non ho avuto Quell'input Da dire Ok adesso me lo compro Anche perché ragazzi Sono sincera con me stessa Io mi sarei comprata di tutto Non è adesso sto facendo la dirkia A dire No non compro Queste cose qui Per carità Avrei anche acquistato Però ho talmente Adesso potrà sembrare Che me ne sto vantando Ma non è così Qui a casa Dentro la mia stanza Dentro i miei armadietti Dentro di tutto Ho talmente tante creme Sieri Contorno occhi E chi più ne ha Più ne metto In campo skin care Hair care Eccetera eccetera Tra io che compro Perché non mi fermo un attimo Io sono amante Della bellezza 360 Quindi quando vedo Qualcosa che mi incuriosisce Lo compro In più Anche le aziende Mi mandano spesso e volentieri Tantissimi prodotti Straordinari Ed è un peccato Stare ancora di più A comprare Perché di conseguenza Poi dopo vai ad abbandonare Altri prodotti Poi comunque Hanno delle scadenze Quindi È un peccato Sprecare Non che Li faccio andare a buttare Perché un po' Li regalo anche Ai miei familiari Alle mie amiche E tutte queste cose qui Non va nulla sprecato Attenzione Però io sono una O meglio Siamo io Mia mamma Mia sorella Non ci attacca più di tanto Al mondo della bellezza Diciamo È acqua e sapone Ecco E quindi Per quanto possibile Per quanto posso regalare Le cose mi arrivano continuamente Sono tantissime Perciò Comprare anche altri prodotti Ulteriormente Non mi dà la possibilità Di consumare Tanti Tantissimi Articoli Che ho in casa Infatti Già sarà Tra virgolette Non che mi dispiace Sarà già un problema Riuscire a consumare Le tantissime cose Che mi hanno regalato In maniera gratuita I vari stand E i vari padiglioni In cui sono entrata Allora Il Cosmoprof È un'esperienza Lo ripeto anche qui Meravigliosa Per chi ama questo mondo Assolutamente Da andare È molto Moltissimo Dispersivo Io con Dieci ore Sono riuscita Non tantissimo A girarlo tutto Ma anche perché Non conoscevo la situazione Poi Se negli anni a seguire Ci riandrò Adesso ho un Infarinatura Penso si dice così E quindi riesco a girarmelo meglio È sicuramente un'esperienza Per scoprire nuovi brand Nuove novità Nuovo tutto quanto Perché stiamo parlando Di una fiera Che ci propone La bellezza A 360 Ma in maniera mondiale Perché ci sono padiglioni Che arrivano dalla Corea Quindi tutte le novità Della Corea Padiglioni del Brasile Quindi tutte cose del Brasile E ci siamo capiti Quindi Io ho avuto Questi omaggi Che tutti quanti Non perché io Tra virgolette Possiamo dire Così sono una ragazza Che fa video su Youtube Ho ricevuto tutte queste cose Chiunque Partecipava Alla fiera Poteva riceverle Andando in base Agli standard Dove davano le cose Io molti Cioè diciamo Molti campioncini Molti prodotti Me li sono persi Perché magari Non sono passata Non ci sono andata Però Ho visto tantissime persone Che hanno preso Molte Molte Di più Di cose Rispetto a me Io vi faccio vedere Tutto ciò Che ho preso Che mi hanno regalato E quindi adesso Ve lo faccio Immediatamente vedere Allora da dove parto Mi metto la bustona Qui oddio Sto tipo smontando Tutto quanto Qui dietro Allora da dove parto Ah partiamo Da farvi vedere Una cosa Parto da farvi vedere Questo qui Allora Questi sono Tutti i biglietti E tutto quanto Vi faccio vedere Un po' il Cosmo Prof Com'è Guardate Questa qui La piantina È gigantesco Ragazzi È un qualcosa Di veramente Brand da tutto il mondo Molti neanche li conoscevo E ho incontrato Anche tantissimi brand Con cui collaboro Quindi è stata Un'esperienza Bellissima Questo è il Cosmo Prof Guardate È un qualcosa Di immenso Poi I miei biglietti Però vabbè Non serve farveli vedere E adesso Vi faccio vedere In compenso Anche L'autografo Che mi ha fatto Federico Fashion Style Perché mi sono fatta Fare l'autografo È carino come Ricordo Da tenere Dentro la cartellina Del mio primo Cosmo Prof Sperando Sper In persona Lo ripeto Anche in questo film È veramente Una persona Favolosa Quindi questo Lo mettiamo qui Ci tenevo a far vedere Questa cosa Adesso parto Abbastanza random Con i campioncini Allora Da questa azienda qui Eccola E ogni campioncino Che mi hanno dato Me l'hanno inserito In queste dust bag Del marchio Che sono veramente Utilissime Adesso potrò sembrare Una ciociarotta Però sono veramente Comodissime Per andare a fare la spesa Comunque Per tenere Cose in macchina Che di certo Non guasta Quindi Sono stramega Comodissime Per la vita quotidiana Queste buste Allora Il primo brand Che vi faccio vedere Si chiama Karal Penso l'ho pronunciato bene Comunque È questo qui E a questo stand Mi hanno Omaggiato Di Allora Questi due campioncini Che si tratta Di shampoo E conditioner Quindi Conditioner E conditioner Quindi Shampoo E balsamo Eccolo qua Vedete A parte che fa riflesso Non so come mettervi Comunque Ecco qui Mi hanno omaggiato Di queste due cose E poi Da come ho capito È un brand Che tratta di capelli Quindi tutti i prodotti Inerenti i capelli Poi casomai Nei vlog Man mano che testerò le cose Ve ne parlerò Comunque Vi farò un video apposito Su come mi sto trovando Con i prodotti ricevuti Al Cosmoprof Qualcosa mi invento Per farvi sapere Come mi ci trovo E molto E molto E molti marchi Che vi sto facendo vedere Non ne conoscevo Neanche uno Premessa E poi Mi hanno regalato Questo trattamento Per tutti i tipi Di capelli Che si tratta Di un olio Per capelli Guardate che Cioè Guardate che confezioni Cioè Niente da dire Veramente Ci hanno omaggiato L'hanno dato A me Mia sorella E mia mamma Ovviamente mio zio E mio papà Gli hanno fatto Altri trattamenti Dedicati ai maschi Comunque Ci hanno omaggiato Delle cose spettacolari Tra cui questo qui Ma che gli volete dire Cioè Guardate che Che meraviglia Questo da come ho capito Da come mi hanno detto È un olio per capelli Come vi stavo dicendo Da 30 ml Quindi È abbastanza Cioè Non è un campioncino Da come ho capito Ma Una full size Vero e proprio Anche se fosse un campioncino È meraviglioso Vedete com'è fatto Cioè Guardate che bella La confezione Qualcosa di Strepitoso Favoloso Quindi Ho ricevuto da questo brand Quindi Prima busta Andata via Poi vi lascerò magari Tutto scritto sotto Nell'info box O non lo so Perché non so come Organizzarmi Comunque voi Controllate sempre Gli info box Perché vi dico Tutte le info del caso Qui sotto Come vi dico sempre Poi Altro brand Guardate che bella Questa dust bag Spettacolare Che si chiama Amica Eccola qui In questo caso Ci hanno regalato Adesso vediamo Subito subito Ovviamente Tantissimi Deblian Illustrativi Anche qui Si tratta di un brand Mi è caduto qualcosa Vabbè Non ci facciamo caso Anche qui Si tratta di un brand Dedicato ai capelli Vedete tutti i Deblian Con scritte tutte Le novità Tutto quanto Quindi Ci hanno regalato Vabbè i Deblian La dust bag E all'interno I prodotti O meglio Un campioncino Eccolo qui Questo si tratta Di una maschera Per capelli Quindi ci hanno regalato Come campioncino Una maschera Per capelli Eccola qui Poi Andiamo avanti Con questa Spuria Di prodotti Partiamo Questo qui Questo È un marchio Che Come pronuncio H-Zone H-Zone Professional H-Zone Non lo so Comunque Vabbè Vi sto facendo vedere Che è meglio Qui ci hanno regalato La cosa bellissima Di questo stand Oltretutto Che ci stava Anche l'opzione Visto che producono Tutti i prodotti Per la skin care La hair care A base di lavanda Compilando un format Un qualcosa Ci stava da una parte Una signorina Che dava i gelati Da mangiare Al gusto lavanda Veramente Guardate Certi stand Certi padiglioni Magico ragazzi Il Cosmoprof È veramente Un qualcosa di magico Poi Per io Che ci sono data Come prima volta Veramente Un mondo a parte Allora Qui ci hanno riempito Ampiamente Di prodotti E adesso Vi faccio vedere Tutto quanto Allora Come mi organizzo Mi conviene Far vedere Prima la bustina Dove sono contenuti Ossia dentro In questo Cartoccino Cartoccio Questo qui Che sembra Tipo il cartoccio Quando vai alle sacre Che ti mettono i fritti Vabbè Lasciamo perdere Che penso sempre A mangiare Anche su queste cose Di bellezza Però Voi non ci fate caso Mi sta accadendo tutto Aiuto Non so come farvi vedere Le cose Aiuto Vabbè Comunque Allora Partiamo da Questo qui Che è un argile Ah uno scrub Ragazzi Argile Semi di cacao Uno scrub Campioncino di scrub Che non guasta mai Poi amante della skin care Lo sapete Poi questo Un balm Essential Beard balm Vabbè Non fate caso Di scrub Poi abbiamo Il rainbow Drops Color protection Mask Quindi per capelli colorati Una maschera Che vi protegge Se avete fatto De colorazioni Colorazioni Per i capelli Non è il mio caso Perché io Non ho mai fatto Una tinta in vita mia E poi abbiamo No Sempre altri campioncini Che già vi ho fatto vedere Quindi Passiamo avanti Quindi Questa è fatta Poi procediamo Con Ah questo qui È un altro Debian Che no Ancora non vi ho fatto Neri prodotti Poi procediamo Con Nashi Argan Eccolo qui Anche qui C'era da andare A ritirare Un bel kit E ci sta Allora All'interno Troviamo Questo Hair mist Da come ho capito Ragazzi Ma state facendo Caso ai packaging Anche se sono campioncini O In alcuni casi Full size Sono straordinari Cioè Niente da invidiare Ai prodotti Veramente full size Che cos'è questo Ah ragazzi Questo qui È Mi sa Fraganza Per capelli Mamma mia Veloce È buonissimo Cioè Lo mangerei Favoloso Favoloso A dir poco E poi Qui troviamo Shampoo Apriamo la bustina Facciamo prima Troviamo Allora Campioncini Di shampoo Shampoo Conditioner Quindi Balsamo Shampoo Balsamo Ovviamente Il Debian Che ti spiega Tutto quanto E poi Questa fialetta Che cos'è Ah questo qui Sempre un altro Olio per capelli Favoloso Quindi Tutte cose Che senz'altro Ci tornano utili Poi Comodissimi Questi Campioncini Veramente Favolosi Allora Poi Andiamo avanti Procediamo Con Che cosa Mi sono persa Qui No Sono sempre Altri Debian Mi sa Perdonatemi Un attimo Perché Aiuto Me lo stavo dando Anche addosso Cosa sono Questi Campioncini Sì Mi sa anche Questi qui Sono campioncini Ma ve li faccio Vedere dopo Allora Mi svuoto Prima di tutte Le buste Così Poi facciamo meglio Sto facendo Un casino Me ne sto rendendo Conto Però Voi comunque Non ci fate caso Allora Poi abbiamo Qui Quest'altra azienda Che si chiama Hair therapy Sarina Kay Una cosa del genere Comunque Questa qui Ve la faccio vedere Eccola qua E ci hanno regalato In questo Stender Allora Ci hanno regalato Un altro shampoo Mi sa Alla geratina Shampoo Riparatore Mi sa di sì Comunque Un campioncino Di shampoo Alla geratina Che di certo Non ci costa mai E poi Quest'altra boccettina Che anche qui Si tratta di un olio Devo dire ragazzi Che tantissime novità In campo di oli Veramente Guardate Certe novità Pazzesche Vedete Questo qui Olio per capelli Spero che vi sta mettendo a fuoco Tutto quanto Me lo auguro Poi procediamo Poi procediamo con Un'altra bustona Eccola qui Guardate quanto è bella Questa qui è tipo Duochrome Pavolosa Guardate quanto Cioè Riflette la luce Che è bellissima Pazzesca Allora Qui che cos'è Si tratta di Bio Bio Top Professional E vediamo Di che cosa si tratta Mi sa sempre cose per capelli Io personalmente Sono andata Ai padiglioni Capelli Skincare E tutto quanto Però ho visto che Molte persone In gira Avevano anche altre buste Che io qui non ho Quindi Tutto quello che vi sto facendo vedere Lo ripeto È tutto ciò che Ho ricevuto io In base ai padiglioni Dove sono stata È tutto irretto Però veramente Guardate C'era il mondo Regalavano veramente il mondo Sono di una generosità Pazzesca Veramente Le aziende sono strepitose Non perché Danno i prodotti gratuiti Però veramente Sono favolosi Disponibili Bravissimi Pazzeschi Si si tratta sempre Di qualcosa Inerente i capelli Quindi questo brand Che vi sto facendo vedere È per i capelli E ci hanno regalato Due kit Sempre in Mini size Allora parliamo di Un sample kit Premium Effect Tutto a base di Geratina Quindi un kit Tutto a base di Geratina C'è Geratin shampoo Geratin serum E Ah quindi ci sta Allora Tutto alla geratina Questo l'ho capito Shampoo Siero E maschera Vedete È un kit così Vediamo un po' Tutte cose per i capelli Ragazzi Da come state capendo E Voilà Eccolo qui Ecco qui Tutto il mini kit Voilà Carino eh Veramente carino Veramente Bellino Bellino Poi una volta Una volta fatto questo video Che ve l'ho girato Insomma Che ve l'ho registrato Smisserò tutte queste cose Insieme ai tanti pacchi Che ho Alle tante cose Che mi devono arrivare Dalle aziende Mamma mia Sono piena di prodotti Non che mi dispiace Attenzione Perché mi stanno tipo Uscendo gli occhi di fuori A rivedere tutte queste cose E poi qui ne abbiamo Un altro kit Questo qui È a base di Kinoa Fantastico Abbiamo sempre Uno shampoo Un siero E una maschera Tutto però Tutti e tre A base di Kinoa Vedete Kinoa Mamma mia Un profumo pazzesco Hermit Kinoa Spero che vi metta a fuoco No non penso Vi sto mettendo a fuoco Non lo so Comunque Spero di essere a fuoco Quando vi faccio dei riprodotti E anche qui Troviamo lo stesso sistema Eccolo qua Shampoo Cioè poi Per essere Madonna mia Questi capelli Poi per essere Mini size È tanto ragazzi Non sono pochi i prodotti E voilà Vedete Anche questo qui Simile a quell'altro Solamente che ha proprietà E ingredienti differenti Poi passiamo Vediamo un po' Se siamo quasi al termine No Neanche per niente Allora Qui ho un'altra busta Si tratta di Hair Dreams The Art of Hair Creation Quindi altri prodotti Inerenti i capelli Ho tutti i prodotti Inerenti i capelli Ragazzi Allora Qui ci hanno regalato Vabbè Ovviamente Tutto quanto Tutto il Deblian Tutte queste cose qui Voilà Ok Per farci capire Insomma il prodotto Poi come va utilizzato E tutto il resto E qui Che cosa ci hanno regalato Oltre il Deblian Non ci sono prodotti In questo caso Mi sparisco Mi spariscono Come sempre Il Care Mi sa di no Comunque Io spero Io spero che questo filmato Vi sia piaciuto Io Casomai E man mano Un po' Alla prossima Ciao Ciao Alla prossima